Ileana Speziale è qui a Stilo nella sua città di origine per presentare il suo primo romanzo. È per me veramente un motivo di orgoglio e di gioia essere qui a Stilo perché appunto è la mia terra di origine, una terra che manifesta calore e affetto per chiunque venga e quindi sono felicissima proprio perché è grazie al calore trasmesso da questo posto che riesco ad andare in tutta Italia e trasferire questa nostra passione perché noi mettiamo la passione in tutto ciò che facciamo anche grazie a Sedotta e Sclerata. È un libro autobiografico, si racconta la storia di? Sì esatto, parto dalla mia esperienza personale perché io in prima persona ho la sclerosi multipla però mi piace definirmi anche una grande sognatrice e quindi Sedotta dalla vita e continuerò ad amare la vita, continuo a vivere con passione la mia vita anche nonostante la patologia che è la sclerosi multipla. I proventi di questo libro? Sì, ho scelto di devolvere parte dei proventi del libro ad AISM, al gruppo Young, per progetti appunto dedicati a ragazzi con sclerosi multipla. Allora, AISM è l'associazione italiana a sclerosi multipla, quest'anno fa 50 anni di attività, cosa fa AISM? Intanto è un'associazione fatta da persone con sclerosi multipla e dei suoi familiari, da tutte le persone coinvolte direttamente e indirettamente dalla sclerosi multipla. Da 50 anni AISM si pone come obiettivo quello di stare vicino e a supporto delle persone con sclerosi multipla. da supporto alle persone con sclerosi multipla, sia per quanto riguarda l'affermazione e la tutela dei diritti, nel fornire servizi a supporto per la mobilità, ma anche per tutto quello che riguarda l'adempimento degli aspetti burocratici per il riconoscimento dello stato di invalidità e così via. Diciamo che AISM è l'unico riferimento a 360 gradi che è di supporto alle persone con sclerosi multipla, l'unico ente in Italia, l'unico ente che finanzia la ricerca. Attualmente per quanto riguarda la ricerca ci sono a disposizione circa 18 farmaci per intervenire sulla sclerosi multipla. 20 anni fa c'era un solo farmaco che era l'interferone. Cosa fa AISM oltre a questo? Nell'ottobre del 2017 l'associazione ha fatto in modo che venisse approvato dalla Regione Calabria il decreto per quanto riguarda il PDTA. Il PDTA è l'acronimo e percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale. In cosa consiste? Consiste nel fatto che la persona neodiagnosticata viene presa in carico dall'inizio, dalla comunicazione, dalla diagnosi e per tutto il decorso della malattia. Considerato comunque che chi è colpito da questa patologia tende intanto ad escludersi sotto l'aspetto sociale ma ha bisogno della riabilitazione. Tanto per fare un esempio teniamo presente che la riabilitazione è considerata non solo per migliorare la qualità di vita ma è terapeutica per cui è un aspetto necessario. Ma anche per tutto ciò che riguarda il monitoraggio della terapia farmacologica, dell'aspetto psicologico ma di tutti gli aspetti che va a colpire la persona con sclerosi multipla perché poi essendo la stessa una patologia multifattoriale può creare problemi sotto l'aspetto urologico, cardiologico quindi va ad abbracciare un po' tutto l'aspetto della persona. Un'ultima cosa, colgo l'occasione per comunicare che il 19-20-21 ottobre è il coordinamento regionale AISM Calabria, ha organizzato un convegno giovani interregionale che si terrà a Tropea, è un convegno interregionale che andrà a coinvolgere le regioni della Sicilia anche della Campania, lì sarà un momento di informazione in quanto ci saranno ricercatori di levatura nazionale ma anche un momento di confronto perché come dicevo prima chi è colpito dalla patologia tende ad estranearsi e momenti come questi invece creano momenti di confronto tra persone che condividono lo stesso problema. Sì, noi come comunità di stilo siamo contenti di ospitare qua stasera Ilenia Speziale anche perché è un piacere doppio perché è figlia di uno stilesi quindi questo tipo di iniziative noi vorremmo sempre che ci fossero in questa nostra cittadina la ringraziamo per aver presentato questo libro qua. Questa sera impegnati come cooperativa sociale San Giorgio per la presentazione del libro Sedotta e sclerata di Iliana Speziale una giovane scrittrice stilese ma che non viene a stilo da almeno vent'anni quindi siamo tutti particolarmente emozionati e diciamo che è un qualcosa di particolare, non è un semplice romanzo è un romanzo che racconta di questa difficoltà, di questo problema che è la sclerosi multipla ma affrontato con una grandissima forza quella di Iliana che servirà e sta servendo parecchio su tutto il territorio nazionale e stilo oggi la prima tappa del tour calabrese è il segnale che va dato a tutti, dai giovani ai più grandi perché la vita va affrontata in un modo deciso la vita è qualcosa di veramente importante Iliana ha capito come affrontarla e come affrontare le difficoltà che la vita le ha messo davanti